se volete l'autografo chi non ha avuto la fortuna di vincerlo può miscare il libro grazie grazie tu sai che qua dal cimitero c'è il secretario nazionale che prendi ma io poi spettacolo qui c'è il battaglio ho fatto tantissimo quest'anno grazie c'è qualcuno che ha da cambiare 50 euro Grazie. 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 Grazie.